Siamo qui con Katerinia Signakova, la pronuncia è corretta? Sì, bene. Siamo nella reddizione di Tenissimo.it e potete vedere l'interview sul nostro sito. Prima di tutto, complimenti, perché stiamo facendo un molto buon tournamento. Grazie, grazie. E vorrei chiederti, era più difficile oggi con García o con Serena? Sono completamente diversi matchi, ho sentito pressione oggi, perché ho vediato a Serena, quindi ora tutti si aspettano. Siamo giocati davvero bene e farlo in un tournamento, quindi ho sentito pressione, ma ovviamente due matchi erano davvero difficili, contro la Serena ho giocato bene, non avevo nulla da perdere, ero libera e tutto è successo. Quindi sono davvero felice, ho giocato due matchi e potrei ancora giocato qui in domani. Sì, giocati molto bene Tennis. Grazie. Ma oggi e oggi. E ti sentite bene? Perché vediamo che hai un problema in un legno, tutto è ok? Sì, mi sentite molto meglio, ogni settimana c'è un altro tournamento, quindi ho portato un po' da Roma, e ora è molto meglio. Ok, e la ultima domanda, pensate che potete vincere questo tournamento? Sì, mi sentite bene, mi sentite bene, è un altro match difficile per me, quindi sarà difficile, ma io provo a cercare di mostrare il mio meglio, e penso che è open, io posso farlo, quindi provo a cercare di mostrare il mio meglio, e poi ci vediamo. Ok, buona luce, e in italiano diciamo in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Stenissimo.it 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 Sì.